Non ho parole per descrivere il voto che mi ha lasciato Jujutsu Kaisen 2. Dopo una già deprimente puntata in cui abbiamo perso uno dei personaggi più amati della serie, oggi il dramma prosegue e questa volta tocca a Nubara. E se magari la morte di Nanami era già nell'aria ancora prima che accadesse, quella di Nubara è stata un vero e proprio colpo al cuore, che di norma avrebbe davvero stupito chiunque, letteralmente chiunque. E dico di norma solo perché purtroppo ci sono i classici fenomeni che amano spoilerare le persone prima che esca la puntata perché hanno letto il manga. E sì, purtroppo è successo anche a me, oramai a me hanno veramente spoilerato praticamente tutte le morti di Jujutsu Kaisen, di tutta la serie, ma vabbè, per fortuna sono una persona che non si lascia abbattere da queste cose e preferisce godersi comunque le puntate anche sapendo magari il colpo di scena perché tanto fin quando non vedo quell'evento, non vedo quella scena, ancora non riesco a metabolizzarla. E soprattutto vedere come avviene, come viene messa in scena una morte del genere è una cosa che deve essere vista per forza. Ammetto di non essere mai stato un amante di Nubara, per me è un personaggio che chiude il suo cerchio in un modo davvero triste, senza un buon approfondimento, con tanto potenziale non sfruttato e che avrebbe dovuto avere più spazio. Ma questo solo se pensiamo ad uno schema classico, quello di tanti altri manga simili, in cui abbiamo un trio di protagonisti che deve essere approfondito più o meno allo stesso modo, quindi tutti quanti ben caratterizzati. Eppure, anche se in Jujutsu Kaisen Nubara non ha avuto chiaramente lo stesso spazio di Megumi e Itadori, che tra l'altro sono ancora in vita, per me questa cosa non rappresenta un difetto della serie. Non è che se Nubara non è stata approfondita a sufficienza, nonostante sembrasse un personaggio principale, significa che la serie ha curato male quel personaggio, perché secondo me era proprio nell'intento di Gagakutami, l'autore del manga, quello di farti credere che Nubara sarebbe stato un personaggio prioritario, prioritario, primario nella serie, quando in realtà non lo è stato. E io ammiro tantissimo un autore come lui, che a differenza di tanti altri suoi colleghi, riesce davvero ad ammazzare dei personaggi importanti, anche in modi del genere, così inaspettati, assurdi, improvvisi, anche un po' di fretta, altri non riuscirebbero. Eppure questa cosa è davvero realistica. Certo, c'è da dire che in verità, a differenza di Nanami, che è letteralmente esploso, e quindi sicuro non lo vedremo mai più, il cadavere di Nubara è ancora in condizioni decenti. Voglio dire, sicuramente c'ha mezza faccia spappolata, anche se tra l'altro ho visto che nel manga la scena è un po' più gore, si vede di più quello che accade, è più esplicita, non so se lo faranno vedere nel prossimo episodio, però a prescindere, le condizioni del suo corpo sono decisamente migliori di quelle di Nanami. Quindi si potrebbe anche credere che in qualche modo magari torna in vita, resuscita, non lo so, io onestamente spero di no. Se Jujutsu Kaisen al momento mi sta sorprendendo tantissimo, è proprio per il modo in cui ammazza i suoi personaggi, perché è una cosa che si distupisce, ma che poi ti fa anche dire, cazzo, il pericolo si sente davvero, la tensione c'è, i cattivi sono veri cattivi, la gente muore anche male, questa roba è realistica, fa provare tanta paura e va bene così. Quindi farla tornare in vita, secondo me smorserebbe un po' questa cosa. Ovviamente ragazzi sappiate una cosa, che se adesso nei commenti scrivete no tranquillo, tanto è morta, non resuscita, oppure se hai ragione resuscita, a prescindere sono spoiler, perché questa cosa non la so, è una mia teoria, è una mia speculazione, quindi ragazzi non fate le solite merde che fanno finta di non sapere che stanno spoilerando ed evitate di rispondere a questa domanda, a questa mia perplessità riguardo il futuro e il destino di Nobara. Grazie. Quello che state vedendo è un commento alla puntata da parte mia, non c'è bisogno di spoilerare qualcosa che nessuno sa, tranne voi che avete letto il manga. E non dovete neanche provare a farlo intuire dai vostri commenti. Grazie. Tanto lo so già che lo farete. Anche il fatto che non abbia avuto una degna conclusione e neanche un degno sacrificio, perché comunque Maito alla fine sì, Isatori l'ha sbattuto faccia a muro in modo incredibile però, è chiaramente ancora vivo e quindi è stato anche un sacrificio abbastanza inutile il suo. Ma questa cosa, secondo me, rende il tutto ancora più realistico e mi piace. In sostanza è una svolta che distrugge quei classici stilemi narrativi di tante opere simili. Quindi sì, la morte di Nobara mi ha scioccato, mi ha emozionato, mi ha fatto versare qualche lacrima, ma più che per lei, per le persone che gli sono attorno, per la storia con la sua vecchia amica, o ancora di più per quel povero di Yuji. Yuji che sta vedendo tanti suoi compagni morire puntata dopo puntata. Già Sukuna gli ha ammazzato miliardi di persone nel suo corpo. Poi, poco fa gli hanno ammazzato Nanami di fronte a lui, adesso pure Nobara, manco lei è riuscita a salvare. Ma questo ragazzo, in che abisso di disperazione sta per immergersi? Ho veramente tanta paura per lui, ma credo che tutto quello che sta per accadere rappresenta qualcosa di davvero fondamentale per la sua evoluzione. E non solo ragazzi, non so se avete notato, ma questo episodio si chiama Giusto Sbagliato Parte 2. Se lo scorso riguardava la morte di Nanami, Giusto Sbagliato Parte 1, quello di oggi, la morte di Nobara, Giusto Sbagliato Parte 2, il prossimo si intitolerà Giusto Sbagliato Parte 3. Quindi io non voglio credere che davvero debba morire un altro di importantissimo, anche perché chi cazzo possono mai far morire adesso di importantissimo? Megumi non credo proprio, perché secondo me è fuori gioco ormai, l'ha salvato Sukuna, non credo succederà nulla. L'unica persona che mi viene in mente al momento potrebbe essere Mei Mei, anche Todo teoricamente, ma che fine ha fatto Todo? Quando torna Todo? O ancora, Yuta? Yuta? Ma quando cazzo arrivi? Oh, voglio sentire poi delle valide ragioni, delle giustificazioni del perché hai fatto così tanto tardi, sempre se poi arrivi. Voglio ricordarvi che mancano quattro puntate alla fine di Shibuya, e della seconda stagione in generale. Ma detto questo, cos'altro ci mostra la puntata a parte la morte di Nobara? In effetti non molto altro, perché questo è l'evento clou, però ci sono alcune cosine. Si parla principalmente dello scontro da Nobara contro la coppia di Maito, e Itadori contro Maito. Lo scontro avviene nello stesso istante, elemento importante che non avevo considerato nella scorsa puntata, perché non avevo controllato bene gli orari e non mi era chiarissimo se fosse avvenuto poco prima, oppure se fosse nello stesso istante. I due scontri quindi viaggiano in parallelo, e secondo me sono stati una grandissima sorpresa, perché io a questo punto vi dico, ma questi animatori, no? Davvero c'è stato questo crollo enorme? Perché sì, la scorsa puntata abbiamo detto, il crollo era evidente. Non era un crollo fortissimo, molte persone non se ne sono manco rese conto. Lo sconto tra Yuji e Maito della scorsa puntata aveva parecchie imperfezioni, ma il complesso era più che godibile, comunque di alta qualità. Adesso la puntata di oggi, ragazzi, onestamente a me è sembrata di ottima qualità. Tutte le mazzate che danno Yuji e Nobara a Maito per me sono state clamorose, cioè veramente tanto fluide, dinamiche, ben fatte, sì anche raffazzonate, ma con quello stile tipico di Jujutsu dove percepisci la potenza dei pugni, godi un botto quando vedi quel Maito farsi del male, perché Maito è un personaggio che deve crepare nel modo peggiore possibile. Veramente degli ottimi scontri. Attraverso la risonanza Nobara riesce addirittura a colpire il Maito originale aiutando Itadori, e si rende conto che il Maito che ha di fronte è un clone che non può usare la sua tecnica. Ad una certa lo stronzo scappa e Nobara lo segue. Ovviamente faceva tutto parte del piano di Maito, perché già sappiamo che il suo obiettivo è distruggere la salute mentale di Itadori, facendolo in questo modo atroce, cioè facendo morire i suoi compagni di fronte a lui. L'ha fatto con Nanami e adesso l'ha fatto con Nobara. Si è fatto raggiungere da Nobara, ovviamente è stato comunque un errore di Nobara, lei non avrebbe dovuto fare tutto ciò, non avrebbe neanche dovuto tornare sul campo di battaglia, cosa che le era già stata detta da Akari all'inizio della puntata. Purtroppo però, poiché voleva sentirsi allo stesso livello di Megumi e Itadori, che erano al centro del campo di battaglia, ha deciso di continuare a combattere, ha seguito Maito, è finita giù alla stazione, si incrociano gli sguardi, arriva Itadori, si guarda con Nobara, e intanto ci sta Maito che fa lo scambio, proprio il Maito principale, va verso Nobara, il Maito copia va verso Yuji per distrarlo, e qui ci sono questi attimi di tensione clamorosi, dove veramente percepisci una paura fottuta, anche se già sai, già sai cosa sta per succedere, io lo so già purtroppo, magari, magari ripeto, qualcuno che non sapeva nulla, non se l'aspettava perché è uno dei personaggi principali, anche se non ha mai avuto troppo spazio, uno dice, ma come fa a morire Nobara? Come fa a morire Nobara adesso? Col cazzo, col cazzo come fa a morire? E niente, quando la tocca sul viso, uno capisce che è finita, bellissima anche l'immagine in cui Nobara tiene la sua mano sul punto in cui viene colpita, che tra l'altro era presente anche nell'opening, così come nell'ending, forse si poteva intuire la sua di partita, perché ci sono molte scene in cui vediamo Nobara da sola, e vediamo invece Itadori e Megumi da soli, quindi magari uno capisce che si separano, nel senso che purtroppo Nobara ci lascia, ma in tutto ciò, Maki, Maki, Naobito, ma che fine, oh, io non ce la faccio più, voglio sapere che cazzo sta succedendo, io non ce la faccio a vedere una puntata a settimana. A questo punto parte il flashback di Nobara, per dare un maggiore approfondimento al suo passato con Fumi e gli abitanti del villaggio. Un passato alla fine molto semplice, posso dire che i primi minuti mi sono piaciuti molto, però a lungo andare cominciavo a chiedermi, ok, alla fine è chiaro cosa ti vogliono far vedere, non è niente di particolare, almeno a me non è sembrato nulla di così sconvolgente, qualcosa di, che rivela qualcosa di assurdo, no, giusto per approfondire un po' Nobara va bene, però dopo un po' di minuti uno dice, sì però torna nel presente e fammi vedere che cazzo sta succedendo. Alla fine a parte vedere la bontà di Nobara, l'aiuto che rivolge a Fumi e la relazione con Saori, non mi sembra di aver notato qualcosa di davvero interessante. Ci ricolleghiamo poi al presente dal punto di vista di Fumi, che vediamo che sta facendo una vita ordinaria da ufficio e che ripensa a Nobara, e si chiede cosa stia facendo in quel momento. Ritorniamo da Nobara e vediamo i suoi ultimi attimi, una scena veramente straziante ma molto bella. C'è questa rappresentazione che potremmo magari definire allegorica, in cui ci sono tante sedie, alcune con i suoi compagni attuali come Gojo, Itadori, Megumi, e altre invece che sono vuote, tante altre vuote che magari rappresentano quelle persone che ci sono state nel suo passato ma che non ci sono più, quindi in un certo senso rappresentano la solitudine. Ovviamente però riesce comunque a rivedere la sua vecchia amica. E poi niente ragazzi, esplode mezza faccia e cade a terra. Itadori, mio figlio, povero, non sapete quanto mi dispiace per lui, niente, è ancora più disperato di quanto già non lo fosse prima. Credo davvero che Maito sia per diventare il personaggio più odioso della storia degli anime. Io vi giuro, ho letto qualcuno nei commenti dello scorso video che affermava che invece no, a me piace, ma scusate, cioè voi state scherzando chiaramente, cioè non è possibile. Cioè io credo non esista un personaggio più odioso di Maito, io ve l'ho detto già, non vuol dire che è scritto male, è scritto molto bene un personaggio che noi odiamo così tanto, così fastidioso, così cattivo, maledetto bastardo, però è quel fastidioso che tu vuoi vedere morto, ma nel modo peggiore possibile, quando gli ha tirato quella sgangarellata in faccia, Tadogli ha spiacevato dal muro, io ho goduto come un riccio, ho goduto come un riccio, però quando cazzo muore, non lo so, io spero che morirà in questo arco narrativo, magari muore lui, però Ghetto si salva, il falso Ghetto, non lo so, ma che poi Mei Mei, questo falso Ghetto, io ho paura per lei, eh. Quindi niente ragazzi, questo era ciò che pensavo dell'episodio 19 di Jujutsu Kaisen 2, che mi ha sorpreso ancora una volta, nonostante già sapessi chi sarebbe morto, mi ha colpito moltissimo, ho realizzato molto bene, molto meglio di quanto mi aspettassi visivamente, visto, viste le lamentere dello staff, il crollo della produzione e tutto il resto, sono felicissimo del risultato, sono felicissimo di averlo visto, e sono anche tristissimo per quello che sta succedendo, mi dispiace, ripeto, più per Itadori che per Nobara stessa, perché non ero affezionato più di tanto a lei, anche perché non è che ci abbiano mai dedicato troppo spazio. Quindi, fatemi sapere voi cosa ne pensate della puntata, fatemi sapere quanti lacrimoni avete versato per questa puntata, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto, seguite i vari social, noi ci vediamo in un prossimo video.